Dai ci devono dare tanto solo per l'impegno cazzo No facciamo un po' più lungo il t-rex che ne dici 3, 2, 1 Tutti i trennino Sembra, sembra una cosa, vabbè 3 Ciao a tutti Ciao a tutti Buon salve Ciao a tutti Oggi siamo qui sulle build battle Che non sono ancora le build battle troll che vi devo portare Perché non ho avuto tempo di registrare Dato che devo partire domani E quindi questo lezzino non poteva registrarle Cioè in realtà io non potevo registrarle Ma va bene E niente Tanto, tanto Andremo a fare le build battle E fatemi finire se no parlerò ancora di più Andremo a fare le build battle In compagnia di questi lezzini E iscrivetevi ai canali che trovate nella descrizione Ciao Io l'avevo detto di chiamare Alice Poggis Comunque Ciao, è stato bello Addio, addio No, deserto Deserto, ok Dobbiamo Inizio a fare lo sfondo Sì, sì Il bioma Che mettiamo deserto Ma il deserto è vuoto Cosa devo disegnare Il vuoto Il vuoto Ti aiuta anche Ti aiuta È geniale E poi il deserto E voi lasciatelo vuoto Vediamo se vincete No, ma infatti Noi stiamo costruendo il vuoto Infatti Noi stiamo costruendo il vuoto È bellissimo Sembra Sembra La filosofia di canto Senza senso Starly Facciamo la piramide Ah, sì, sì Facciamola Copiona Facciamola Copiona Scrivetelo nei commenti Hashtag copioni Ci ha scoppiato No, non c'è Ci ha scoppiato Ci ha scoppiato Ci ha scoppiato Ha scoppiato, signora No, ha svampato Ha svampato, signora Ha svampato Cos'è sta roba? Fai delle cose Roba Vabbè Cosa faresti tu? Scusa Ok Marti, marti Facciamo un oas Oh, il telefono No, non ci credo Non ci credo Marti, leggi Cosa so Che succede? Ma cosa succede in questo video? Uffa Che palla Perché non mettono Wordedit su questi server? Lo so Dove è lì? Dove è lì? Io manco un minuto Io sto addobbando l'interno Ma che schifo Ma che schifo cosa? Ha senso, ha senso Tranquilla, tranquilla Mi chiedo Mi schifo Ha senso, ha senso Mi sono sentita una merda Praticamente Stanno litigando tra di loro Lasciali fare Lasciali fare Dì sì, beh Cavoli loro No Di? No Ti piace? Ti piace la mia? No Charlie, cosa stai facendo? No Charlie, cos'è sta cosa? No, perché l'hai tolta? No, Martina Perché l'hai tolta? Era un'ape Perché l'hai levata? E apprezzate No, allora Che schifo è? Che schifo è? Che schifo Mamma mia Super cacca Ma ci avete copiato tantissimo Ci avete copiato Ma perché c'è un Ma cosa? Ma che? Ma ma c'è C'è Martina Versina e Luigi Guardate tra i personaggi C'è Martina Versina e Luigi Iaco Che noi a Eren Ma no Non ci sono io Io mi sono buono Ma no Cosa c'entra col deserto sta roba? Ma cosa Charlie Che non mi hai messo nemmeno Ma cosa Charlie? L'ha fatto un pene anche Secondo me Ma come? Ma perché c'è un pene? Ah no, è una forchetta È una forchetta Ah, desert Ragazzi Desert Oh Siamo seconde Ma come hanno vinto? Ma come hanno vinto? Ma che schifo Ci mancherebbe altro Dai Ma era orribile Dai No, no, no Disiscrivetevi dei loro canali Disiscrivetevi Io mi rifiuto Io mi rifiuto Basta Ciao, addio Uh, ci siamo, ci siamo, ci siamo Oddio, il T-Rex T-Rex Oh my god Ok Ok Allora Subito immagino Martì, cambia un po' Sì, cosa metto? Aspetta Martì, leggi in chat Oh, facciamo quello Sì Abbiamo le stesse idee Che Abbiamo pensato la stessa cosa Allora, metti di lana Metti di lana Ok, ok Facciamo che tu Allora Dobbiamo ricreare proprio tutto Cioè, non solo quello Perché se no non si capisce Eh, aspetta, ma come facciamo? Eh, facciamo un po' di blocchi Di quelli l'hai visto Con cui giocano Con la testa Allora, iniziamo Allora, verde scuro Verde scuro Ok, dai Ma è tarocco quello Ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Ma non sapete nemmeno di cosa parlate Ma state zitti Che avete due anni insieme State zitti quando parlate State zitti quando Vabbè, ok Non me la tira i fatti aeree Dai Mi sono pronto Mi dovessi aiutare col T-rex Invece che perdere tempo Con quelle robe Che cosa? Che non facciamo in tempo Non facciamo in tempo Gianni mi devi aiutare col T-rex Se non facciamo in tempo Sì che ce la facciamo No, non ce la facciamo Che cosa stai facendo? No, no, ma Non hai capito? Guarda Dai, Jacco, che inizio a fare qua Dai, che si capisce Sì, ma dobbiamo pensare al T-rex Non ha le cose superfue Ma lo stai facendo enorme Sì, però usa Usiamo questo colore Questo è esagerato Ah, quello scuro? Non possiamo farlo simmetrico Lo sai, vero? Perché sono sporche Cioè, vado a caso io adesso Sì, ma non ce la faremo mai Qualcuno sta perdendo ancora Hai sentito? Li senti? Eh Sì Li senti? Ma l'ha fatto troppo grande Io lo stavo guardando Quanto penso che lo stava facendo Ovvio, stai facendo cose inutili Ma perché a lei piacciono le cose grandi Dai, ci devono dare tanto Solo per l'impegno Cazzo No, facciamo un po' più lungo il T-rex Che ne dici Di aumentare un po' il corpo Perché sono un po' 35 secondi Aspetta Oddio, solo Aspetta, aspetta Forse riesco a trovare Noi non lo finiamo ragazzi Aspetta Aspetta È bruttissimo Non è finito Cos'è? Non lo so È per salvare Ho fatto un po' di effetto Sanguinamente in giro Ma magari lo interpretano come arte Non lo so, Marty No ragazzi abbiamo vinto noi Mamma mia è bellissimo Ma che bello Ma che bello Ma che bello Ammirate Guardalo No, no, no No, no, no Ma cosa? Adesso voglio vedere il posto Perché? No, no, no Ma è bellissimo Ok, ma Mamma mia Ma come è ok Cos'è sta cosa qua? Super No, che capì Che carino Good Questo è bello Lo sapevo che adesso puntano sul Ma questo è bene Guarda il naso Guarda il naso Ma è un drago È un drago Perché hanno fatto la foresta? È quello È nascosto È per nascondere Oh, che carino Mi piace Ma sì, ma Mi piace Ma non è un T-Rex Dai Cos'è sta roba? No È un teschio di T-Rex Vabbè Ok, ok Non lo specificava in realtà Ok, ok Yoshi C'è qualcuno che si toglie Yoshi Ma questo Non hanno le zampe anteriore Questo È così È epic Dai, cazzo Ma cosa? Ma cosa? Io ho messo Puffa Ah, ma è vostro Ma no Ah, no, è questo il vostro Questo è nostro Questo è bellissimo Ma me l'hanno griffato? Fatemi capire Io ho letto a Charlie di non fare quella cagata Ma guarda, c'è il Lego per terra Sto giocando il Lego Vedi che l'ha capita che era del Lego? Delle Lego? Perché ha detto Lego? Cosa qui è un robot? Non è un T-Rex Miau Ah, questo è quello di Jurassic Park Quello piano Sì, ma aveva qualcosa in bocca E aveva qualcosa di rosso in bocca Questo qui è una caramela gommosa Ma che cos'è? Mamma mia, è un terribile Cos'è sta roba? Hai presente i gorsacchiotti gommosi? Quale? Si mangia quindi Sì Eeeh Questo è l'evoluzione di Kray Cioè Un Digimon Infatti Un Digimon Poi c'è una spada lì Infatti Ha detto Vabbè, sto a fare la spada ragazzi Va bene Cos'è? Dick Dick Oh, se vince questo mi ammazzo Questo è quello che vuole Legendary Io ho votato Legendary No, dai Ma sei pensando C'è quello nero Guardalo E questo? È una pixel art Ma ne vengono Ok Da dove si vede però? Proprio si è sprecato L'ha fatta anche distesa Esatto, distesa No, no, è un casino Cosa che si stanno Si stanno prendendo Questo ci va bene Ma è un po' deforme E non l'hanno finito È Gobbo È Gobbo È un quadrimono È un quadrimono È piccolo È Ma che palle Ma non vale Non vale Ci vendicheremo nel video vostro Non è giusto Ci vendicheremo nel vostro video 1 2 Ma cosa? Ma se stavo facendo una stanza di giochi fichissima Sì, peccato vedevamo fare il T-Rex Non i giochi E vabbè Fai un senso dettagli Mi immagino che noi Io l'ho disperata a fare il dinosaurio E lei Faccio il Lego E intanto Ok ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lo so che abbiamo perso Ma è soltanto perché non comprendono la nostra arte Il tirannosauro immerso nell'acqua Era solo artistico Cioè Meglio di Picasso Gente Tanto vinceremo nel video Che troverete sul canale di Nel video che troverete sul canale di Iaco e di Martina Mercoledì Iaco Quindi iscrivetevi a tutti i canali che troverete nella descrizione Lasciate un bel mi piace Un commento Noi c'è nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao a tutti Ciao 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 Ciao